Abbiamo un casino di ossidiana, facciamo il portale del nether Ragazzi, prossimo episodio Se arriviamo a 8 like Prossimo episodio facciamo il portale del nether Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video di Minecraft Oggi siamo qua per fare il secondo episodio della prima stagione di Minecraftita E oggi siamo qua signore e signori per andare a vedere la mitica caverna Allora la caverna che sono andato nell'episodio precedente però non l'ho esplorata tutta diciamo Nel mentre che ero in off camera ho fatto un casino di progresso Come potete vedere sono al diciannovesimo livello, un casino di oro, dieci diamanti In più ho fatto anche la mia armatura Niente io direi di non perderci in chiacchiere e andare subito nella nostra caverna Allora come potete vedere è pieno zeppo di torce Per quale motivo? Dato che sono andato in off camera come appena detto Sono andato a vedere un pochettino la caverna, esplorare Sono andato dappertutto e ho trovato delle cose che forse non dovevo vedere Ma che sono veramente, veramente belle Allora ragazzuoli oggi in questa grotta e ragazzi voi avrete magari già detto Oh madosca già trovato del ferro non siamo neanche scesi Bene non avete ancora visto niente di questa grotta Sfidatevi Tanto per farvi capire siamo entrati abbiamo già ferro grezzo e 51 di carbone Quindi perfetto Guardate qua cosa c'è qua E si signori abbiamo questo luogo Questo luogo e possiamo dire una Eh che cacchio queste ragnatele Guardate dovrei ammattare queste ragnatele Ah con la spada si spaccano Continuiamo sulla nostra strada Ragazzi se mi vedete con la stessa maglietta è normale Perché sto registrando nello stesso giorno Perché quando stavo renderizzando un video ho detto Vabbè proviamo a fare ancora una partita a minecraft Ho cominciato ho visto un po' di casino Ho detto madò questo qua diventerà il mondo più bello di minecraft Era redstone Quanta redstone Ah no due di redstone va bene Ci accontentiamo va bene Ragazzi siamo partiti da zero Cioè vuol dire non c'era non c'avevamo niente Ok abbiamo preso uno stack di carbone Abbiamo preso 25 di ferro E ce n'è anche altro qua Signori altro che armatura qua ci creiamo la vita Sotto sotto ho trovato pure l'ossidiana Quindi potremmo fare volendo un portale del land Ciao Oddio c'è una pava Cos'è? Ah che me frega tanto muori Tieni Semi di barbabietola Cioè poteva essere di tutto Mi devo trovare dei semi di barbabietola Qua c'è roba infinita Io qua non ci sono mai passato Oddio Porco schifo Creeper Di merda Muorici Devi solo morirci Vai Ce l'ho fatta Un altro? Tornare su ragazzi Sarà veramente un casino Perché mi sto già perdendo E non sono neanche entrato in mini Mi sa che devo fare una crafting table Crearmi un baule E metterci dentro il baule della roba Perché non ci sta più niente qua Ci mettiamo magari delle Delle robe inutili Vabbè poi lo era sparo Funghi Li teniamo Mi sa che qua sotto c'è la bedrock Cioè se vado ancora un bel po' sotto C'è la bedrock Di sicuro Ragazzi facciamo una cosa Al posto di prendere del carbone Andiamo a prendere soltanto il metallo Le cose più importanti Il carbone abbiamo già tre stack Credo bastino e avanzano Veramente tanto Va bene andiamo Siamo pronti per continuare Un'altra lapislazzoli che non ho visto Beh non vedo le lapislazzoli Se facciamo due stack di ferro Sono felicissimo Porco schifo No 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 Piano eh Piano Piano Figli di Baldracche Morte Vai 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 Facco tutto Spacco tutto No e non mi ricordo dove devo girare Per grazia divina Si eccoci raga eccoci Eccoci ma c'è un creeper C'è un brutto Plurido È la matosca Ma ci ho messo Ma non ci credo Raga ci ho messo Due Duemila Torce Non possono spawnare Spawnare così E loro se ne stanno lì mi sa eh Ah 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 Sce 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 Proprio così Diciamo che credo che abbiamo visto Metà di tutta la caverna Due creeper Raga ma questa versione qua Ci hanno messo tanti di quei creeper Oei 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 Fanca culo Mi sono spaventato Proprio qua in mezzo Dove va a venire sotto faccia Dai esplodi 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 Bravo Signori Facciamo parkour Allora Abbiamo un casino di redstone qua Io non so cosa serva la redstone Però L'ossidiana Eba l'ossidiana Abbiamo un casino di ossidiana Facciamo il portale del nether Ragazzi Prossimo episodio Se arriviamo A 8 like Prossimo episodio Facciamo il portale del nether Direi di tornare su In superfic- Direi di- E non t'ho visto Non lo ricordo mai ragazzi Domani Nuovo giorno Mi porto i cartelli Non so se devo venire Andare di qua veramente Magari sto sbagliando Completamente Però come non detto abbiamo sbagliato strada Allora Fino a qua ci siamo arrivati Ho sbagliato io a entrare Mi ricordo che c'era una strada Lunga No Questa l'ho scoperta In questo episodio Non credo che Appello del C Come stai Ai Ragazzi Non ho cibo Ragazzi sto per morire di fame Dai Porco schifo Dai Ragazzi devo mettere un attimo in pacifico Per rifarmi un po' di vita Perché non Non lo so Fan Si Si No 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 Aspetta 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 Si E questa E non ce n'è altre Non ce ne sono altre E questa per forza Dai Si Beh ragazzi io credo che questo secondo episodio Della prima stagione di Minecraft Ita Possa terminare qua Io vi dico che ha 8 like sotto a questo video Quindi condividete il video Andrò in offcam Quindi senza riprendermi A prendere l'ossidiana E fare quindi il portale del nether Quindi prossimo episodio Se arriviamo a 8 like sarà il nether Quindi ragazzi ci vediamo In un prossimo video di Minecraft Ita Ciao ragazzi Ciao ragazzi Autore dei sorrisi